Barista in Farmer è anche laboratorio di assaggi. Siamo nel laboratorio della cooperativa Caffè Capucas dove vengono assaggiati, selezionati e controllati tutti i caffè prodotti dagli oltre 800 produttori che fanno parte della cooperativa. Come vedete qui sul tavolo le ciliegie secche, sono quelle che poi effettivamente sono il risultato del processo di lavorazione delle drupe naturali. Caffè in parchment in pergamino e sostanzialmente ciò che arriva qui alla cooperativa per l'assaggio dopo la lavorazione in umido con la fermentazione. Ed ecco qui il cosiddetto grano verde, ossia il chicco verde, ripulito dal pergamino, pronto quindi per l'assaggio e la determinazione della sua qualità. I dieci concorrenti di Barista in Farmer qui avranno l'occasione di fare formazione non solamente sull'assaggio del caffè, che in questa occasione verrà fatto nel metodo cupping alla brasiliana, ma anche avremo modo insieme con loro di approfondire l'aspetto della tostatura. Una tostatrice da 12 kg della Didrik sarà l'oggetto della formazione che i dieci baristi avranno modo di fare nei giorni che passeranno qui a Capucas. Quindi i diversi profili di tostatura verranno poi assaggiati e la competizione tra di loro verterà proprio sul riconoscimento, una sorta di gara d'assaggio, quindi il riconoscimento del profilo di tazza sulle diverse tostate che faranno. Ciao! Ciao!